I monumenti, fortificazioni. Arrivati nel centro storico di San Giovanni in Marignano, sono chiare ad un occhio attento le tracce delle epoche che ne hanno caratterizzato la storia, il Medioevo e l'Ottocento. L'ingresso al paese fortificato avveniva attraverso due torri portaie contrapposte, una delle quali fu abbattuta nel 1854. La torre abbattuta che si affacciava sul ponte Ventena era il vero accesso al castello, laddove invece quella prospicente alla piazza, ancora oggi svettante, ne rappresentava l'uscita. L'intero abitato dunque nei secoli si è completamente ribaltato e ricentrato attorno alla piazza mercato ottocentesca. La torre di ingresso viene abbattuta per permettere la ricostruzione del ponte sul Ventena, fatto con i materiali della torre stessa, così da rendere più agevole il transito dei carri ed evitare allagamenti del torrente, all'epoca piuttosto frequenti. Oggi se ne può intuire la sagoma grazie ai profili in ottone posizionati sulla pavimentazione. La torre di uscita, oggi torre civica e torre dell'orologio, domina ancora su piazza Silvagni con i suoi 24 metri di altezza e rappresenta uno dei simboli di San Giovanni in Marignano. Nella torre è ancora visibile un arco gotico duecentesco, una delle tracce più antiche del castello medievale. Diverse sono ancora le fortificazioni malatestiane presenti nel centro, come mura ad angolo, bastioni, beccatelli, merlature, torri a filo, torrioni, cannoniere, inglobate dalle abitazioni nel corso dei secoli. La struttura difensiva, che constava di due torri portai e sei-otto bastioni, era pensata con una doppia cinta muraria a due differenti altezze, per assorbire meglio i colpi di cannone. Il torrente ventena, che nel periodo medievale allagava il fossato che circondava l'abitato del castello, è stato nel corso dei secoli più volte deviato per permettere l'allargamento del borgo. Ed oggi scorre all'esterno del castello, nel solo lato del borgo Sant'Antonio Abate. Grazie a tutti.